frullare finemente 150 g di biscotti e tenere da parte sciogliere 75 g di burro e mescolare insieme ai biscotti frullati poi spostare in una tortiera da 18 cm con la base rivestita da carta forno compattare bene e mettere in frigo per 20 minuti sciogliere 50 g di cioccolato al latte e far intiepidire leggermente poi aggiungere 250 g di formaggio morbido io ho usato 100 di mascarpone, 100 di ricotta e 50 di filadelfia tenere da parte in un'altra ciotola montare neve ben ferma 150 g di panna da montare molto fredda con 50 g di zucchero a velo mescolare la panna con la crema poco per volta mescolando con una spatola dal basso verso l'alto in modo che la panna non si smonti spostare metà della crema nella tortiera, livellare e aggiungere 2 barrette di marz a cubetti circa 100 g e 2-3 cucchiaini di caramello in fondo al video vi faccio vedere come fare il caramello in casa coprire con la crema restante e mettere in frigo per almeno 3 ore tra scorse le 3 ore procediamo con le decorazioni montare neve ben ferma, 50 g di panna da montare con 10 g di zucchero a velo e spostare in una sac à poche con la bocchetta poi sciogliere anche 100 g di caramello insieme a un cucchiaio circa di latte spostare la torta su un piatto, decorare con i ciuffi di panna non fateli molto grandi altrimenti non vi basteranno e il caramello, non vi preoccupate se inizialmente risulterà un po' morbido in frigo si rapprenderà per ultimo decorate la superficie con altre 2-3 barrette di marz a cubetti e rimettere in frigo per almeno 3 ore ecco come fare il caramello in casa tagliare a cubetti 110 g di burro e aggiungere 8 g di sale che è facoltativo, solo se volete fare il caramello salato altrimenti non mettetelo tenere in frigo, nel frattempo mettere in un pentolino 260 g di zucchero semolato mettere sul fuoco molto basso senza mai mescolare lo zucchero dovete semplicemente muovere il pentolino così che lo zucchero si muova e si amalgami sciogliendosi piano piano inizialmente noterete che si formeranno dei grumi non vi preoccupate, piano piano si scioglieranno anche quelli continuate a muovere il pentolino quando lo zucchero sarà completamente sciolto avrà un bel colore dorato ma non troppo scuro togliere dal fuoco, aggiungere il burro insieme al sale e 190 g di panna fresca rimettere il pentolino sul fuoco basso mescolare con una frusta e non vi preoccupate se inizialmente si attaccherà tutto alla frusta piano piano si scioglierà continuare a muscolare molto pazientemente fin quando tutto il caramello sarà sciolto anche dalla frusta e inizierà a fare delle grosse bolle in superficie poi spostare in una ciotola coprire con pellicola e far raffreddare il caramello è pronto e il pentolino è pulito senza zucchero bruciato dappertutto potete metterlo in acqua calda e poi lavarlo poichino è pulito senza zucchero e poi lavarlo in acqua calda e poi lavarlo in acqua calda